Signori, amici nero azzurri, ben ritrovati all'angolo dell'interista appena finita PSV Inter, video così veloce anche con la meta della salute perché a noi non ce ne frega niente della signorilità, della... Cazzo me ne frega, faccio il video così... Sono in casa mia, qui sto a partire... Cosa devo mettermi? Lo smocchi per fare il video? Allora, cerchiamo un attimo di riordinare il tutto Domani cercherò di fare un'analisi un pochino più approfondita Allora, primo tempo l'Inter gioca bene, però prende gol dal PSV che aveva avuto due occasioni e poi dopo ha fatto questo gol che gli è stato concesso Io i nomi ragazzi non me li ricordo, questi giocatori Cioè, ce ne sono talmente tanti che non conosco di... Anche bravi comunque una rosa del PSV, che è una rosa che comunque sa palleggiare sa proporre un bel calcio, non è quella classica squadra di Materasso Non era semplice, non era scontato andare là ad Eindhoven e vincere questa partita Dicevo, va in vantaggio con questo gran gol dalla distanza L'Inter reagisce a delle occasioni con Nengolan che non riesce a indirizzare il pallone proprio verso la porta Va fuori di poco, un tiro da fuori e poi dopo su uno sviluppo di un'azione sul fondo Arriva questo gol, questo gol sono ribattuta di Nengolan da fuori aria Uno a uno e poi nella ripresa Secondo me siamo stati superiori per tre quarti della ripresa Perché dopo loro, non so, sono calati anche dal punto di vista dell'attenzione Dietro, infatti Icardi è stato sorpreso i due difensori Il portiere non è che mi faccia impazzire, non ha fatto una grande uscita Icardi riesce ad allungarsi questo pallone e a metterlo Comodo, comodo in porta Poi nel finale non arrivavano i cambi, gli spalletti Io invocavo i cambi, invocavo Borca Valero Poi mi ha ascoltato praticamente a sei minuti dalla fine Ha fatto solo due, cioè due, solo due Ha fatto due cambi su tre Mi aspettavo anche un Keita alla fine, un qualcuno di fresco per fare un contropiede Mi aspettavo un centrocampista Poi cittavo anche Candreva Comunque anche lui per colpire in contropiede andava bene Però diciamo che stasera, grande serata di Nainggolan Io avevo pronosticato il gol del Ninja Grandissimo primo tempo, nel secondo è un po' sparito Però, insomma ragazzi, sta giocando tutte le partite Ha 30 anni, stasera non ne fa 31 Diciamo che anche lui centellina un po' cerca di gestirsi un po' le forze come può Però fa la differenza già così che è al 65-70% Immaginiamolo a un ipotetico 100% Grande gara di Politano Che nel secondo tempo non l'hanno mai preso sulla fascia destra Qualità, grinta, corsa, tutto stasera Icardi ha aiutato tantissimo anche dietro Soprattutto nel finale come voleva Spalletti Ed è questo che deve fare un centravanti moderno Pergice e D'Ambrosio, secondo me i peggiori D'Ambrosio si è un po' ripreso nel secondo tempo Con delle belle chiusure, con delle belle sovrapposizioni in avanti Ma al primo tempo, ragazzi, io stento ancora a credere che giochiamo in Champions League con D'Ambrosio Questo stento ancora a credere Lo spero che Versalico si riprenda presto Perché veramente è un patema Se no è un patema tutte le volte Però, ripeto, nella ripresa si è ripreso Scusate il gioco di parole Abbastanza I due centrali mostruosi, ragazzi Schenner, De Vrij, sono un cazzo di muro Cioè, questi saranno il pilastro Lo dissi a suo tempo Nella difesa Nella nostra difesa per almeno Cinque anni almeno Dipende se terremo Schenner Registeremo le offerte che arriveranno Perché a questo punto Ne arriveranno di veramente Veramente importanti E Sulla sinistra Zamo ha giocato bene Ha giocato bene Esperienza Dopo alla fine ha patito anche lui La condizione fisica Qualche faro di troppo Ha beccato il giallo Loro comunque hanno una bella squadra Questo Lozano Devo dire la verità Nel primo tempo si è visto poco Nel secondo Comunque un lampo da fuori aria Delle belle Delle belle sgroppate sulla fascia Un giocatore interessante Però abbiamo saputo Abbiamo saputo contenerlo E quindi Meglio così Non era scontato per niente Andare a vincere Adaintove Adesso abbiamo sei punti Il Tottenham ha perso La prossima Non so se è con Il PSV ancora In casa O col Barcellona Questo non mi ricordo Comunque col Barcellona Può rarsi che la sconfitta Ce la lasciamo Quindi può rarsi che sei punti Per strada Dipende San Siro Se prendesse fuori un pareggio Sarebbe oro colato Proprio c'è una cosa L'Alkamp No Penso che Non faremo il risultato A quel punto Il Tottenham Probabilmente Ma non è scontato neanche lì Potrebbe recuperare I sei punti Contro il PSV Però Penso che a questo punto Ci siamo Incanalati bene Verso Un ipotetico Secondo posto Quindi vorrebbe dire Anzi non lo dico che è meglio E basta Penso di non avere Nient'altro da aggiungere Io penso che andrò a manicomio Prima di Dalla fine del campionato Perché Prendiamo gol subito Mi ero incassato come una bestia Perché poi le partite Le vivo Le vivo soprattutto All'inizio così Perché voglio che andiamo In vantaggio subito Voglio impormi Voglio Vivo Vivo il mio interismo Sempre con quella voglia Di Di dominare Di vincere Non di dire Mi accontento Di un punto Da indov Ne dicevo di tutti i colori La squadra di cioccolataie Qui su e giù L'Olanda calcisticamente Ha vinto A livello Di Champions League Di Coppe Europee Ma a livello di nazionale L'Olanda Ha sempre avuto Dei grandi talenti Ma non ha vinto niente Quindi sto serio Dicevo dobbiamo imporci Su questa squadra Olandese No al tifoso Che si accontenta E' quarto posto Qui sa E su e zo Ma la saliva Un po' di intercalare In dialetto Vabbè signore Mi piace Commentate Ditemi la vostra Iscrivetevi Condividete E ci vediamo Per un'analisi più approfondita Domani Sempre Forza Inter Ammola Ammola